Chi confessa bene la fede, tutta la fede, ha la capacità di adorare Dio, lo ha detto il Papa nell'Omelia della Messa del Mattino. L'uomo e la donna che ha fede si affida a Dio, si affida. Paolo, in un momento buio della sua vita, diceva, io so bene a chi mi sono affidato, a Dio. Al Signore Gesù, affidarsi. E questo ci porta alla speranza. E così come la confessione della fede ci porta all'adorazione e alla lode di Dio, l'affidarsi a Dio ci porta a un atteggiamento di speranza. Ci sono tanti cristiani con una speranza, con troppa acqua, non forte. Una speranza debole. Perché? Perché non hanno la forza e il coraggio di affidarsi al Signore. Ma se noi cristiani crediamo, confessando la fede, anche facendo la custodia di loro, della fede, e affidandoci a Dio, al Signore, saremo cristiani vincitori. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Per rimanere nel Signore, rimanere nell'amore, è necessario lo Spirito Santo da parte di Dio. Ma da parte nostra, confessare la fede che è un dono e affidarsi al Signore Gesù per adorare, lodare e essere persone di speranza. Che il Signore ci faccia capire e vivere questa bella frase. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.